Senza perderci in chiacchiere Benvenuti ragazzi e ben ritornati nei canali play channel Ragazzi oggi sono qua con un nuovo video Ma è anche una prova perché ho provato ad aumentare gli fps e metterli a 60 Quindi oggi non so come verrà questo video Allora, prima cosa che ho fatto ragazzi è che ho fatto qua una bellissima farm Perché mi servirà del cibo Poi ho messo un paio di torce con la carbonella che mi sono fatto E ho guardato un pochino i posti dove sono andato a visitare negli scorsi episodi Dove sono morto, 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 esploso, bruciato, morto, caduto Tutte le mie morti stupide che ho fatto Quindi ragazzi oggi andiamo a visitare un'isoletta Perché me ne sono accorto dopo Ma almeno me ne sono accorto Se guardiamo in quel punto dell'isola Questa qua dietro Dovranno essere delle cose molto belle Anche se ci sono delle cose anche molto brutte Se guardate là abbiamo dei diamanti Però ragazzi prima di andare all'attacco Mi sa che è meglio farci una cosa Ok qua basteranno una spada E secondo Un piccone di ferro Ma il piccone di ferro per adesso non posso ancora farlo Ed ecco qua i nostri diamanti Che non riusciamo a scavare Perché siamo un abbi Comunque Vediamo qua Tanto qua mi sa che c'è qualche cosa di Ah ma quanti diamanti ci sono ragazzi What the fuck Oh my gosh This is so cool Mi sa che qua ci sarà anche una chest Perché ragazzi io sento Dei mobs E i mobs Stanno vicino sempre a qualche A qualche cesta Di Cavolo Dovrei avere anche un altro kit Dovrei avere sì Bello Mamma mia che nabbo Tanto qua ho scavato un casino di Materiale Perché tipo Come avete vedere Qua aglia Occhio Ho disboscato l'albero Ho disboscato l'albero E anche là un po' E qua mi sono messo un pochino di erba Che palle però Senza perderci in chiacchiere Bene a tutti ragazzi Sono tornato Sono tornato ragazzi Dopo un po' di tempo Dato che Alla seconda morte Per via di un salto sbagliato Mi sono incazzato un pochino E ho smesso di giocare Sono tornato E la Devo veramente Fare un monumento a quell'isola Ho trovato Tre Trovo tre Precisi Pezzi di ferro Che ho usato Quindi adesso Devo stare molto attento A non morire Quindi Vabbè Finalmente Diamanti 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 Ancora uno Grande Bella Quindi abbiamo Sei Fottutissimi Diamanti Bella Adesso raccogliamo anche questo Po' di carbone Che ci rimane E Andiamo A scovare Cosa c'è Qua Perché non mi ricordo più l'isola Forse La cosa Che dovremmo fare prima È quella di Andare a portare Al sicuro Questi diamantozzi Ho fatto artigianalmente Molto Bisogna dire Salutare E uccidiamo Che questo Scheletro Muore Che nabbo Non sei Un vero Scheletro MG Sei soltanto Uno sfigato E poi ragazzi Mi avete detto Che quest'isola qua Dovrebbe essere Fortunata Razzismo Contro Le L'unica cosa È che se avete notato Sta Diventando Notte E questo Non mi piace Per niente Ed eccoci Qua Arrivati Già La vedo Dell'altro ferro Ragazzi Quindi Mi avete detto Una cosa vera Che questa isola è fortunata Abbiamo anche dell'oro È bella Bella Altro ferro Altro Fottutissimo ferro Ragazzi Ci facciamo Una bella scorta Quindi Prendiamo Tac 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 Tic tac Però stavolta Cerchiamo di non fare La figura Di Cadendo nel vuoto E perdendo Tutto la Tipo c'è un'orgia Quindi Lasciamoli Stare Lasciamoli scopare In pace Muore 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 Grazie Ciao E quindi Anche lo zombie Che ha cercato Di stuprarmi È morto In maniera Cattiva Quindi Andiamo Di nuovo A scavare E Freghiamocene Degli Zombie Cattivi Dai Ti sto aspettando Vieni anche tu E la bella festa Di play channel Eita Muore Schifoso Andiamo un attimo A vedere se c'è Qualcos'altro Ma l'altro che Comunque ci ha già dato Tanto Questa mappa Ce la stiamo sfruttando Al massimo Penso che Può anche bastare Quindi ragazzi Prossime Due isole Saranno quelle Oggi ne ho fatto Ciò tanto una Perché Ho fatto quei fail Che Fanno abbastanza Ridere Ridere Più che altro Fa abbastanza Pena Perché sono morto In maniera Molto Da sfigato Però Ho anche Trovato Dei Belli Diamantucci Quindi possiamo dire Che sono Ok Sono nella Merda Venite qua Schifosicci E boh Tanto lo scheletro Si è ucciso Muore 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 Ok Ragazzi Mangiamo E adesso Facciamo una corsa Ok Adesso arriva Questo zombie qua E poi ragazzi Possiamo andare No 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 Corri Wow Vai Corri Mori 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 Tutti morite 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 Non rompetemi le palle Non rompetemi le palle Corri 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 Bella Siamo riusciti Ad arrivare Alla nostra Casa Boom Diamanti Bene Ragazzi Dato Fatto questo Posso dire Di essere Soddisfatto E che potrò Concludere L'episodio Quindi Andiamo a Belliamo Quella mia Casa E mettiamo A cucinare 10 pezzi Di ferro Fuck you E ci mangiamo Anche Un panino Perché noi siamo Bravi E noi mangiamo Salutare Quindi ragazzi Dopo questa Alba Non da molto Fantastico Vi richiedo Di mettere Un mi piace Un commento Di iscrivervi Il mio canale Se non siete ancora iscrivete A vedere i miei precedenti Video però Non spero di più Da qui è tutto Per il saluto E ci vediamo Questo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti